Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oggi c'è veramente un sacco di argomenti di cui parlare perché pian piano che andiamo avanti con i giorni della season ovviamente ci poniamo anche delle domande sulla storyline di questa stagione la mappa l'abbiamo oramai capita, a parer mio continua a rimanere meravigliosa sicuramente una super base per poter creare almeno altre 10 stagioni quindi ingrandirla, ampliarla, inserire delle nuove location ovviamente dei nuovi veicoli e tanto tanto altro nel video di oggi vorrei parlarvi appunto delle prime indiscrezioni per quanto riguarda appunto questa storyline cosa succede, su cosa si basa è davvero molto interessante quello che già sappiamo parleremo anche però di una possibilità dell'arrivo dei primi veicoli da terra ovviamente per potersi spostare tra una città e l'altra e se cesserà anche del tempo parliamo anche dei nuovi spray nuovi set di spray che vengono dati gratuitamente a un numero neanche così troppo limitato di persone prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi guardano in live su twitch dalle 8 alle 18 mi raccomando ragazzi non mancate io ci sono e grazie anche a tutti quelli che vogliono supportarmi utilizzando il codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi dove caspita è finita al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video prima comunque la domandina ve la devo fare perché ci tengo tantissimo alle vostre risposte proprio qua sotto nei commenti domanda di oggi davvero molto semplice preferiresti il ritorno della ghoul trooper oppure dell'elfo codename elf insomma due skin che non è detto che arriveranno mai più ma se dovessi scegliere quale vorresti è una bella scelta io vado per l'elfo mi piace troppo proprio proprio bello proprio bello non credo che arriverà a Natale l'anno scorso non è stato rilasciato beh speriamo ovviamente che invece possa tornare ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare un secondo dell'argomento più caldo di questi giorni sui forum su reddit su tutto quello che riguarda la community di fortnite c'è un problema di fondo in questa mappa è adesso che l'abbiamo capita correre da una parte all'altra è veramente massacrante anche perché molte persone muoiono in safe perché magari non calcolano bene i tempi effettivamente un veicolo ce l'abbiamo la barca ci sta può andare anche sulla terra lo sappiamo tra l'altro fortnite ha proprio tweetato un paio di giorni fa un sondaggio dove chiedeva alla community se utilizzare la barca anche sulla terra fosse di loro gradimento l'ottanta per cento di persone parliamo di 300 mila voti ha detto sì quindi per il momento ragazzi non c'è niente in cantiere ma tutti dicono è un po' strano che i nuovi veicoli vengano fatti in maniera così dettagliata confrontandoli ovviamente a quelli della season precedente dove dai erano buttati lì ma non erano niente di speciale qua ci sono proprio dettagli super e molti chiedono e sperano che il primo veicolo di terra potesse essere proprio una macchina è vero che viene detto allora giochiamo a battlegrounds ed è la stessa identica cosa non è ovviamente così ma a me piacerebbe tantissimo che ci potesse essere un veicolo da squad ad esempio una macchina per portare in giro i nostri compagni di squadra insomma ragazzi aspettiamoci davvero che nel nel prossimo futuro arriverà qualcosa per spostarsi in maniera un po' più veloce ma andiamo avanti con il prossimo argomento e qua ragazzi una piccola una piccola accortezza molti si chiedevano quelle mappe più grande quella della scorsa season o quella di questa beh ragazzi la conferma arriva direttamente dal conteggio dei forzieri presenti in mappa posso già dirvi che questa mappa è se non di tantissimo comunque più grande della scorsa e il numero di forzieri da 387 che erano quelli della mappa precedente passa a 587 quindi 200 forzieri in più il che ovviamente lascia intendere che siano molti più anche gli spazi e anche molto più spazio preso proprio dalla mappa che sia per caso la troppa immensità della mappa a creare ancora dopo una settimana problemi di lag non lo so però molti cominciano un po' ad arrabbiarsi sarebbe il caso che Epic Games trovasse al più presto una soluzione ma sono sicuro che comunque ci stia lavorando e andiamo avanti con il prossimo argomento il più importante ragazzi allora cosa vi sto facendo vedere cosa sta succedendo parliamo della storyline comunque la storyline precedente della season è stata chiusa appunto con i sette il visitatore lo scienziato è arrivata anche l'ultima skin femminile i sette ovviamente non sono spariti sicuramente ci sarà modo di rivederle o comunque di riagganciarci alla storyline perché questa è proprio una nuova dimensione ma è collegata in bianco il tweet in inglese che dice storyline megatread attack it is the dialogue new scene allora vi dico in allegato ve lo dico genitaliano che ho tradotto qua per voi in allegato c'è il dialogo che potete vedere prima che il gioco si carica nel in questo capitolo quindi proprio il primo video che magari molti dopo la snervante attesa del buco hanno un pochettino lasciato correre beh ragazzi lo xuder ha tradotto qui di qua xuder di qua come si dice ho cambiato la webcam mi trovo un pochettino strano di qua ragazzi qualche giorno di abituamento questo per favore per favore ho spaccato tutto questo ragazzi ok ci siamo chiedo scusa questo ragazzi è il dialogo in inglese ve l'ho tradotto in italiano lo leggiamo insieme allora il campo di contenimento è stabilizzato il ponte è intatto intatto in poche parole qua potrebbe voler dire che c'è stata la comunicazione tra i due universi tra le due mappe i sette sono riusciti a ad evitare che le manipolazioni di quanto è successo creassero una catastrofe il punto zero è nostro e il piano può continuare tra le parentesi quadri ci sono delle altre cose che non ci interessano sorprendente è il volume più pulito della materia risolto intorno al ponte quindi comunque continuano a parlare di un successo per quello che avevano intenzione di fare sono riusciti appunto a trasportarci in questa mappa sono necessari charting non so non me l'ha neanche tradotto non so cosa voglia dire e analisi estensive quindi ovviamente c'è ancora molto da lavorare probabilmente per ricollegare altre mappe altri universi il nostro miglior team quindi penso che riferisca nuovamente ai sette è stato scelto scritto scelto e inserito ed è pronto in poche parole aspettiamo resistenza e simili da agenti incorporati qua ragazzi mi soffermo un secondo perché c'è un'altra bellissima teoria dove gli agenti incorporati e la storyline si rifaccia un pochettino sul discorso che da questa season per la prima volta viene presentato dell'alter ego cioè la maggior parte se non credo anche tutte le skin del pass battaglia hanno un alter ego quindi una variante cattiva della skin stessa e qua non è facile capire sicuramente ha che fare con la storyline ma non è facile ovviamente cercare di associare per noi che non conosciamo ovviamente niente rispetto a quello che ci viene detto o quello che troviamo nei leaks associare la parte la evil quindi la parte cattiva delle skin con i sette forse con il trasportarsi tra una mappa e l'altra le skin i personaggi in questo caso i personaggi che vengono proposti in questo post battaglia hanno si sono sdoppiati quindi letteralmente hanno avuto una parte malvagia staremo a cercare di capire ragazzi queste sono supposizioni che vengono dette nei forum appunto su twitter su reddit e ovunque sia io cerco di riportarvi al meglio perché in italia siamo veramente pochissimi che parlano di questo e quindi è tutto in inglese o in altre lingue speriamo più o meno di capirci voglio però farvi vedere una figata ragazzi questo è di qua non riesco a me non mi ricordo questo ragazzi è un'immagine presente nei file di gioco e si tratta proprio del legendary craig cliffs ve la faccio vedere in chiusura perché abbiamo già esaurito il tempo probabilmente anche dal mare succederà qualcosa io per adesso mi fermo vi ringrazio per aver guardato questo video noi continueremo ovviamente domani mattina con tutte le news ma intanto dalle 8 siamo in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.